Come faccio a fidarmi di nuovo degli uomini? Benvenuti nella mia nuova rubrica Un Consiglio da Rossella. Accominciamo. Cara amica, ci vorrebbe una bacchetta magica, una bacchetta magica che ti dicesse questo va bene, ti puoi fidare, ma purtroppo così non è. Diciamo che ci sono delle avvisaglie, io dico sempre una cosa, che per potersi fidare di un uomo bisognerebbe prima imparare ad amarsi. Perché ti dico questo? Perché se tu hai valore di quello che tu sei, e di quello che tu vali, non permette a chiunque di avvicinarsi. Quindi facendo questa selezione, già eviti che si approcciano qualsiasi tipo di persone vicino a te. Mi spiego meglio. Tu mi hai chiesto qualche esempio in chat, ok? Se io sono una donna insicura, quando un uomo mi scrive e mi dirà ciao, ti ho visto, sei una bellissima donna, mi puoi dare il tuo numero? Se io sono una donna bisognosa, io a queste parole già mi sentirò felice perché mi ha fatto un complimento e perché si è accorto di me e perché mi ha chiesto il mio numero. Quindi mi sentirò lusingata. Ma questa cosa l'avverto perché questa persona mi piace o perché ho bisogno che qualcuno mi dica un complimento per farmi stare meglio? Se la risposta purtroppo è la seconda, vuol dire che in quel momento tu stai facendo approcciare vicino a te un uomo che probabilmente non ti merita, ma già dall'inizio. E mi spiego meglio. Per fidarsi di un uomo vuol dire che noi quell'uomo l'abbiamo più o meno inquadrato e le avvisaglie ci stanno, ci stanno pure subito. È solo che non ne voliamo perì. Se un uomo mi scrive come sei bella, questo è il mio numero, dammi il tuo numero, così ci sentiamo, ok? Ma tu fatti sempre una domanda. Se questa cosa succedesse nella vita reale, tu cosa feresti? Daresti il tuo numero al primo sconosciuto che passa? No. Quella persona deve valere la pena di avere il tuo numero. No? È una cosa importante. E la stessa cosa lo dobbiamo fare anche sui social, anche nelle chat. Per poterti fidare devi essere sicura che tu stai facendo avvicinare la persona giusta. Ma nel momento in cui tu sei insicura di te stessa e sai che potresti sbagliare perché sai che non sei lucida, perché sai che sei bisognosa, sai che potresti sbagliare uomo. La fiducia nelle persone la acquisti solamente quando hai acquistato la fiducia in te stessa. È direttamente proporzionale. Da lì non si scampa. Non esiste un metodo. Io posso dirti che un uomo che ti può dare fiducia è un uomo che fa quello che dice. È un uomo che è sempre presente. Ti posso dire che è un uomo che non dice bugia. Che è un uomo che non scompare. Che è un uomo che non fa tattiche. Che è un uomo che non ti dice subito ti ama anche se non ti conosce. Che è un uomo che non cerca di vedere subito il tuo lato estetico. Che è un uomo che non si interessa senza di sapere quanto guadagni. Sicuramente è un uomo che merita fiducia. È un uomo pulito. Un uomo sincero. Un uomo che ammette le proprie fragilità ma senza dare colpa alle altre donne. Senza andare ad offendere le persone con cui è stato in passato. Perché vuol dire che è un uomo maturo che ha capito i suoi sbagli. Che è stato ferito. Ma non per questo va come ricimma a Napoli a sputare nel piatto dove ha mangiato. È un uomo che ha come dire una propria tostima ma senza però risultare arroganto o senza cercare di rendere insicura l'altra persona o inferiore che non cerca di screditarla. È una persona che c'è sempre anche quando ha da fare. Un uomo che può conquistare la tua fiducia è sicuramente un uomo che non cerca di come dire andare veloce ma rispetta i tuoi tempi. Perché la conoscenza ha bisogno di tempo. Fino al giorno primo quella persona non sapevamo neanche che esisteva. Non possiamo farla venire così nella nostra vita come se niente fosse. E se un uomo corre se un uomo salta tutte le tappe è perché ha qualcosa da nascondere. Per quanto tu possa essere una donna fantastica strepitosa bellissima. Ok? Una persona tra virgolette normale si affeziona quando conosce. Non esiste amore senza conoscenza. Non posso amare qualcuno che non conosco perché l'amore non è infatuazione. L'amore è scegliere di stare con quella persona conoscendo i suoi pregi ma soprattutto i suoi difetti. E se questa persona ti conosce da una settimana e già ti dice che ti ama che gli manchi mi viene da ridere perché è allucinante veramente diffida. Quindi quello che ti posso dire non devi tanto poggiare la tua attenzione sull'altro ma su te stessa. Hai capito? È un po' come andare a comprare un vestito no? sperando che non me ne vogliono le commesse che la commesse ti diano il consiglio giusto. Allora tu entri nel negozio vedi due vestiti e sei insicura su quale prendere o non sei addirittura se prendere quel vestito. E c'è quella commessa che ovviamente per vendere fa parte del suo lavoro uno fa cattiveri ti dice signora sta benissimo questo vestito veramente lei è proprio formidabile magari quel vestito ti ingrossa il colore non ti dona però tu perché quella commessa ti ha fatto sentire bene con quel complimento quel vestito te lo compli poi lo metti nell'armadio non lo metterai più se invece tu sei una donna che sa qual è il vestito che gli sta bene qual è il colore che gli dona la commessa può parlare da oggi fino a domani tu quel vestito non te lo compri e così devi essere anche con gli uomini se tu sai esattamente chi sei e cosa vuoi tu non ti fai prendere in giro da un uomo quindi non è una questione di dare fiducia a un uomo la questione è di avere fiducia in te nelle tue capacità è vero tu dici ma quelli sono così brave a mentire poi all'improvviso escono fuori quello che sono perfetto le avvisaglie ci sono sempre solo che non le dobbiamo giustificare non dobbiamo mentire a noi stessi quando già al primo appuntamento quest'uomo si fa notare per la sua gelosia quest'uomo chatta con varie donne quest'uomo comincia a essere invadente quest'uomo pretende che già al primo appuntamento siamo con noi queste sono avvisaglie di un uomo che non sta cercando realmente di conoscerci di un uomo che vuole una relazione sana perché uno drop gelos non ama perché uno che chatta con tante altre donne non è interessato solo a te sta vagliando le varie opportunità e tu vuoi essere la seconda scelta perché un uomo quando è interessato a te te ne accorgi perché ti mette al primo posto ma non prima di lui perché l'uomo vero sai che fa mantiene la sua vita così com'è con le sue passioni con il suo tempo ma donandoti donandoti comunque le sue attenzioni quello è un uomo sano un uomo che all'improvviso si annulla per te senza neanche conoscerti una persona è bisognosa un uomo che già nelle chat subito vuole sapere come sei vestita cosa indossi che taglia porti che taglia di reggiseno ragazzi che taglia di reggiseno porti questi vanno bloccati senza proprio risposta capi? cioè appena scrivono questo bloccare perché uno che ti chiede a tagliare il reggiseno ma che deve essere? cioè di cosa stiamo parlando? veramente lo vogliamo incontrare? invece molte donne si sentono mi dispiace dirle anche quasi lusingate no oddio non fare non fare lo sporcaccione no quello non è sporcaccione quello è tutto perché non è una cosa bella che si chiede a una donna ma tutto a posto hai capito caro amico? ora ti ho fatto tanti esempi un uomo sano è un uomo che deve come stai? cosa fai nella vita? senza dire che signor sei un scorpione? io vado d'accordo con gli scorpionesti praticate voglio dire basiamo il nostro amore sull'astrologia? è vero uno ci può creare non ci può creare però non è che dobbiamo basare tutto sulla nostra astrologia oppure che ne so che lavoro fai? quanto guadagni? ma perché può essere mantenuto? cioè quindi tutte queste domande che non sono normali perché non sono normali ragazzi lo dobbiamo far passare per normale quindi una volta che capiamo cosa è normale cosa non è normale cosa è rende un uomo cioè tu che visione hai dell'uomo? per me l'uomo è una persona galante per bene sicuro sincera una persona che rispetti i tuoi temi una persona protettiva tutto quello che non rientra in questa cosa per me non è uomo quindi automaticamente allontano quindi non devo avere la fiducia in quella persona perché quella persona non ha voglia proprio hai capito? quindi prevenire prima che curare iniziati a curare tu ad avere fiducia in te e ti faccio vedere come la situazione ti sembrerà più chiara purtroppo viviamo in un mare di scuole capi? che fanno finta che sono delfini ma sotto sotto sono scuole hai capito? in bocca al lupo amica mia non devi mordere l'amore esiste